Torniamo ai tanti argomenti di cui abbiamo parlato oggi perché impattano ovviamente col giudizio dell'opinione pubblica e se si andasse a votare oggi cominciamo col vedere come vanno i partiti isolati poi facciamo l'ipotesi quella che abbiamo già visto delle coalizioni, della coalizione mondiale a destra perde ancora ed è al minimo storico il PDL di Berlusconi 22,4% un punto e passa in una sola settimana e guadagna quasi tutto la Lega Nord che ormai supera l'11% l'opposizione fa bene verrebbe da dire la destra stabile come pure il Grande Sud che guadagna 0,2% andiamo al centro, al terzo polo che è in sofferenza inaspettatamente 1-0,4% Futura Libertà, 1-0,3% l'Unione di Centro l'unico che guadagna lo 0,1% il Movimento per l'Autonomia ma sono guai anche per l'altro grande partito il PD infatti il PDL perde quasi, anzi perde più del PDL, dell'avversario PDL l'1,2% anche se il punto di caduta 26,4% è molto più alto di quello del partito rivale se ne avvantaggia anche qui come ha fatto la Lega a destra a sinistra l'altro partito che fa opposizione l'Italia dei valori di Pietro più 0,8% e soprattutto andando qualche riga più sotto sinistra Ecologia Libertà di Vendola più 1,1% e ascendendo ancora più 0,5% la federazione della sinistra vuol dire che i partiti d'opposizione guadagnano anche se una piccola fessione, una lunga corsa siamo a 4,2% è per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo ma il vero partito che trionfa è quello dell'astensione dal voto se vediamo adesso e stiamo per vederlo nelle intenzioni di voto l'astensione è al 33% vuol dire che un cittadino su 3 non andrebbe proprio a votare se sommiamo ovviamente gli indecisi 14,3% e chi andrebbe solo per depositare la scheda bianca nell'urna 3,6% si vede che in questo momento oltre metà degli italiani non vuole andare a votare vota bianca o è indeciso e se facciamo la prova del 9 e se si andasse per coalizione ci fosse la coalizione Monti perde ancora un pochino, siamo al 51,8% e a guadagnare sono sia la sinistra d'opposizione sia la Lega Nord un po' perde il Movimento 5 Stelle e un po' gli altri ma questa è la fotografia a questo aggiungiamo il gradimento per Mario Monti anche quella, la fiducia di Mario Monti è un po' in calo pur si resta alta al 59% Masia, detto in breve è un trionfo per chi si oppone Sì sì sì, l'impressione mia di questa settimana è che la politica sembri davvero in stato catatonico perché è una stensione record almeno virtuale al 33% non l'ho mai registrata e poi un dato che qui non si vede ma che io ho registrato un 40,7% dei cittadini che non riescono a collocarsi politicamente cioè non si dichiarano né di destra né di centro né di sinistra e questo è un dato che da quando faccio questo lavoro cioè dal 1994 io non l'ho mai registrato Si vede che è giovane ma la verità è che probabilmente tutto questo sommatizza quello che è il dibattito surreale su Monti non consegniamolo alla sinistra non consegniamolo alla destra vuol dire che in questo momento c'è un governo che neanche i partiti riescono a catalogare Probabilmente è così non c'è dubbio che questa possa essere sicuramente un'interpretazione Senta Masia, abbiamo detto oggi ha fatto parlare molto bene i numeri quindi ci vediamo lunedì prossimo perché tardi andiamo in pubblicità Grazie a tutti